E se non mi chiedi a parlare di cui mi aspetta, Ogni giorno gli scrivo che mi ama. Lui mi intima di lasciarlo in pace. Io gli rispondo, lo vedi che mi ami? Lui scrive, piuttosto che tornare da te, mi uccido. Questa è una chiara dichiarazione d'amore. Sei stata tu a dirmi che questa volta è veramente finita? Sì, ma è normale che io lo dica. Funziona così, è il gioco delle parti, io di questa volta è finita. Tu devi dire no, vedrai che torna! Ma perché piangete tutte di notte Tutte? Sempre dalle 3 alle 5 del mattino. Chi sono queste tutte? La macchina è rotta e schedeci la strada 50. Ma se io non ho il credito nel telefono, no? I messaggi mi arrivano lo stesso. Boh, penso che sì. No, perché io ho mandato 28 messaggi da ieri, non hai ricevuto nessuna risposta. Sempre 50 so. Sai qual è il tuo problema? Sentiamo, qual è il mio problema? Che non deponi mai le armi. Sistema farmaco pornografico. Una donna di 45 anni esce dal mercato sessuale. Sta con lui, guarda. Sta con lui. E' una brutta di crescita. E' questa di merda. Se vuoi ti prendo appuntamento con lui, parrucchiere. E' la psichiatra di prima madre. E in cinque anni di matrimonio nemmeno un orgasmo. Ma adesso tutte così? Dicono tutte che non vengono più. Ma mi piace ancora tanto. Eh, piacerebbe anche a me. Lo diceva sempre, ma non t'appoggiare nei locali pubblici, non t'appoggiare. Mi prenderò la malattia di qualcuno. Che scopa tanto, magari. Allora prima che te lo dica qualcun altro magari te lo dico io. Si stanno per sposare. Ah si? E' già incinta? Beh, adesso. Non so se... Oh! Have fun! Conna!